Nell'ultima giornata del giorno di andata, Eneapomezia e Decimo Roma si affrontano alla ricerca dei tre punti, per concludere al meglio la prima fase del campionato di terza categoria. I padroni di casa sono protagonisti delle prime chance del match. La prima azione importante è di De Angelis, che calcia in porta ma la palla supera la traversa. Dopo pochi minuti viene servito Peticca, che sfiora la rete del vantaggio, ma anche stavolta la palla esce fuori. Al ventitresimo è lo stesso Peticca a procurarsi un calcio di rigore. L'arbitro aspelle il portiere degli ospiti, che è obbligato ad abbandonare il campo. Il Decimo Roma così in dieci e sul dischetto va Bergami, che tenta il cucchiaio, ma la conclusione non è quella che l'attaccante si aspettava. Dopo l'errore sul dischetto è Peticca a sbloccare il risultato, servito dalle retrovie pometine, stoppa, tira e segna. Termina così la prima frazione di gioco. Nella ripresa c'è subito area di gol. Calcio d'angolo dei casalinghi e l'attanzio trova il colpo di testa vincente. 2-0 a favore dell'Ena Pomezia. La speranza, come si dice, è l'ultima a morire ed arriva la risposta degli ospiti, che prima accorciano le distanze grazie a Nicola De Matteis. Ed in seguito trovano la rete del pareggio con Gabriele Tarquini, che supera il portiere e da solo calcia in rete. I rossoneri però placano il proprio entusiasmo quando Sberno non riesce a bloccare il tiro di Mosca. Secondo l'albitro la palla supera la linea ed il gol viene convalidato, tra le proteste dei ragazzi del Decimo Roma. Fischio finale e tre punti guadagnati dai ragazzi di Mister Benedetti. Rimane invece la mano in bocca per gli ospiti, che escono dal match con nulla di guadagnato, se non la consapevolezza di aver fatto una buona prestazione. Per me è stata un po' tosta perché rientro da un lungo stop e più infortuni alle caviglie, però da parte mia ho fatto una bella partita. Sì, non sono arrivati i tre punti, però una bella prestazione, soprattutto un campo difficile. Noi non siamo abituati per esempio a giocare su questo tipo di terreni. Comunque una bella partita, soprattutto considerando il fatto che dopo 20 minuti siamo rimasti in 10.